Cioè, se me lo chiede un ragazzo, è importante per me. Capite perché? Perché quello può essere l'insegnante del futuro. Quello potrà essere colui che entrerà, barcherà la soglia della scuola come nuovo professore, come nuovo insegnante. Allora, siccome io credo sempre di più nel fatto che dobbiamo essere ispirati per fare questo mestiere e non fare le crocette di un concorso, allora io spero che dietro a quella domanda di quel ragazzo, di quel bambino curioso nei confronti di questo mestiere, ci sia il Vincenzo che da piccolo, mentre mia mamma andava a scuola, io di nascosto, prendevo un quaderno, scrivevo dei nomi immaginari e facevo finta di fare l'appello. Io facevo finta di fare l'appello. Facevo pure finta di interrogare. Perché mi piace? Cioè, era un'attrazione, sai proprio il film, no? Attrazione fatale. Per me è stato così, cioè insegnare è stato un essere attratto fatalmente da questo mestiere.